Saremmo esagerati a pensare che l'Europa sia stata la madre di ogni progresso nel mondo, dello sviluppo economico, della scienza, della stessa democrazia. Certo ne è stata uno dei centri motori più importanti, ma nel mondo di domani non rischiamo di diventare una piccola periferia? E questa volta vi do il benvenuto, se siete ancora qui davanti a me, può darci, spero che qualcuno sia rimasto, all'ultima delle nostre lezioni dalla crisi. La dedichiamo al futuro, non più al passato, perché del passato abbiamo parlato fino ad ora, abbiamo raccontato dall'inizio questa lunga crisi partita quattro anni fa negli Stati Uniti, diffusasi in altre parti del mondo, in Europa, poi anche in Italia, come abbiamo reagito, come ci sentiamo ora che siamo un po' fuori ma in fondo ancora un po' dentro e ci domandiamo ma verso quale mondo stiamo andando. Io, vedete, questa domanda me la posi perché mi venne chiesto di pormela tempo addietro per un libro al quale ho collaborato, cercando di dire la mia su come sarebbe stata l'Italia fra vent'anni o trenta, non ricordo quanti decenni si indicavano, e io dissi più o meno questa cosa qua per esemplificare. Beh, di sicuro in una delle nostre università quel giorno ci sarà una scena con un professore e i suoi studenti seduti in panchina che stanno facendo lezione fuori. Però la ragione di questa lezione fuori può essere l'una o l'opposta di quest'una. Può essere perché è una bella giornata di primavera, perché la connessione senza fili è diffusa senza neanche un centimetro scoperto in tutta Italia e su qualunque panchina ci si siede, ci si connette, si lavora, si fa lezione, si cercano dati, i professori possono trovare tutto quello che vogliono e gli studenti felici si prendono la giornata di sole in attesa di concludere i loro studi e di trovare un lavoro all'altezza dei loro studi. Oppure possono essere lì fuori per una ragione opposta, perché dentro, nelle aule dell'università, la luce è andata via, manca il riscaldamento, scorrazzano i topi, c'è la polvere perché non c'è più il personale per fare pulizia, è un vero disastro e i pochi sopravvissuti che pensano ancora al sapere cercano di scambiarselo all'aperto perché al chiuso rischiano addirittura di finire avvelenati. Quale di questi due futuri? Ecco, io sono convinto, ve lo dirò, che possiamo avere il primo, ma stiamo attenti. In questi 150 anni di storia che abbiamo studiato proprio in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia mesi fa, noi abbiamo avuto la prova della cosa seguente. L'Italia era retratissima 150 anni fa e nel corso di questo periodo è molto migliorata, è tornata uno dei primi paesi del mondo, ma usciva da una fase di declino che era venuta dopo una fase ancora precedente in cui l'Italia era stata addirittura una grande potenza. Crescita e declino nella storia si alternano. Dove stiamo andando? Queste politiche che è l'Europa, un insieme di paesi che costituisce un blocco economico piuttosto rilevante a livello mondiale. Ecco, se l'Europa continua con queste politiche di bassa crescita, di austerità, tutte giocate sulla crescita solamente trascinata dalle esportazioni, rischia di perdere il ruolo che ha giocato fino ad ora nel contesto internazionale. Perché ci sono regioni del mondo che stanno crescendo molto di più, che stanno crescendo integrate fra di loro e che sempre di più rappresentano la calamita anche di tutti gli altri paesi. Gli Stati Uniti stanno guardando sempre di più all'est piuttosto che all'Europa. E allora a livello europeo noi dobbiamo cominciare a pensare a quali politiche possiamo mettere in atto per rimanere un attore rilevante nel contesto internazionale. A livello dell'Italia dobbiamo fare più attenzione a quelli che sono i nostri vicini più naturali. Cioè, sì attenzione ai paesi del nord Europa, ai paesi dell'euro, ma senza dimenticare che abbiamo una potenzialità nei rapporti culturali, commerciali, con il bacino del Mediterraneo, per esempio, o con il vicino oriente del sud-est. Ecco, io credo che ci sono potenzialità che possono essere sfruttate, ma che rischiano di essere invece perdute. Tutti i paesi dell'Europa hanno sperimentato flussi migratori in entrata negli anni 2000, ma anche precedentemente. Ecco, io credo che i flussi migratori vadano dove ci sono occasioni di lavoro. E pertanto, di quel vecchio dibattito, i lavoratori immigrati portano via il lavoro ai lavoratori nazionali, va messo in un contesto. E un esempio per tutti può forse aiutare a capire come non si è immediata la risposta. Noi tutti in Italia conosciamo molto bene il fenomeno delle lavoratrici, delle assistenti familiari, le cosiddette badanti. Ecco, se noi non avessimo avuto questo flusso di immigrate che sono venute ad assistere i nostri vecchi e ad aiutarci appunto nell'integrare servizi sociali che mancavano, questo avrebbe comportato un'enorme difficoltà per le famiglie italiane. Cioè, le famiglie italiane, come abbiamo visto, di fronte all'invecchiamento della popolazione, alla tendenza delle donne ad andare sul mercato del lavoro, il lavoro pagato, hanno lasciato scoperto questo aspetto dell'assistenza agli anziani e ai bambini, entro certi aspetti, che è stato coperto da questo flusso di immigrate che, tra l'altro, nel sistema italiano hanno garantito questi servizi a costi relativamente molto, molto contenuti, molto spesso in nero. Allora, il problema credo che si ponga nel vedere come il lavoro immigrato complementa pezzi della domanda di lavoro che non viene coperta dai lavoratori nazionali. E allora, però, il problema è come garantire, io credo almeno, uguali condizioni lavorative anche a questi lavoratori che stanno svolgendo un servizio, nel senso che stanno fornendo servizi di lavoro che altrimenti rimarrebbero scoperti. e pertanto dobbiamo trovare dei sistemi tali da garantire che questo loro lavoro non venga anche sfruttato. Qual è il mondo verso il quale stiamo andando? Ecco, al di là delle allegorie su crescita o declino come opzioni aperte davanti a noi oggi, come lo sono state nei secoli precedenti, trovando ora l'una soluzione ora l'altra, il mondo nel suo insieme sta andando verso una condizione indiscutibilmente migliore, anche se dovendo fronteggiare molti problemi. Insomma, alcuni decenni fa il numero delle persone che non riuscivano a sopravvivere ad una fame a cui non erano in grado di dare risposta ad una malattia della quale nessuno per loro si occupava era dieci, cinquanta volte superiore al numero di quelli che oggi vivono le stesse difficoltà. C'è ancora miseria nel mondo, c'è ancora malattia nel mondo, sono tanti i bambini che ancora muoiono e che non dovrebbero morire, ma milioni e milioni di persone nel mondo sono uscite dalla povertà e milioni e milioni aspettano di uscirne grazie a ritmi di sviluppo delle parti un tempo più povere del mondo che hanno preso a cambiare la faccia di quel mondo nonostante stiamo diventando sempre più numerosi. Tra vent'anni saremo nove miliardi di persone e probabilmente ci sarà cibo per tutti e probabilmente ci saranno i beni essenziali per tutti ma sarà difficile riuscire ad organizzarci in modo che questa crescente disponibilità di beni sia fruibile da tutti coloro che ne hanno bisogno. Guardate che già nel 1960 un grande filosofo del tempo Marcuse scrisse che ormai eravamo in grado di nutrire tutti gli abitanti del mondo e che era solo per ragioni organizzative nostre che ci rivelavamo incapaci di farlo. Questo vale ancora oggi e varrà quando saremo nove miliardi anche perché le economie dei paesi più poveri si stanno irrobustendo. Certo sorgeranno dei problemi perché ci sarà energia per tutti gli esseri umani che vorranno energia che avranno una lampadina da accendere dove oggi vivono la notte al buio ci sarà pane per tutti se andremo ancora in automobile ci sarà benzina per tutte le automobili che nel mondo circoleranno. la risposta che si tende a dare è che sarà così però sarà così con condizioni di vita che in qualche modo escluderanno eccessi di ricchezza da una parte così come tenderanno ad escludere gli eccessi di povertà dall'altra che si vengono poco alla volta colmando. Il mondo del futuro sarà un mondo nel quale ci potrà essere a sufficienza per tutti ma a sufficienza per tutti. Noi occidentali dovremo probabilmente rinunciare ad una quota di standards di vita a cui siamo arrivati così stratosfericamente superiori a quelli dei paesi poveri. Ci avvicineremo noi dall'alto altri dal basso verso una media che in un mondo globalizzato dovrebbe essere una media di vita sufficiente per tutti. In questo mondo il problema di noi europei e quindi di noi italiani sarà quello oltre che noi verremo dall'alto e dovremo un po' scendere è che noi saremo pochi. gli esseri umani passeranno da 6 a 9 miliardi ma noi europei continueremo ad essere 450 milioni 500 milioni noi non cresciamo non cresciamo e diventeremo più vecchi è una condizione di infelicità questa dipenderà da noi vedete perché se diventeremo più vecchi se ci saranno meno giovani europei ci sarà più spazio per i non europei per colmare un altro dislivello che nel mondo ancora c'è tra paesi che hanno spazio per immigrati e paesi che danno emigrati perché non sono in grado di mantenerli tutti quanti ci sarà nei decenni prossimi la ripresa di un fenomeno che secoli fa era un fenomeno molto molto intenso e molto frequente quello delle migrazioni dei movimenti di popolazione quello di gente che viene da lontano e che si insedia da noi vedrete che questo fatto e ci tornerò per il futuro sarà non meno positivo di come lo è stato nel nostro passato e ora vi spiegherò il perché l'immigrazione in Italia è in crescita costante gli stranieri irregolari sono passati dall'1% della popolazione nel 1996 al 7% nel 2011 con 4.235.000 cittadini stranieri regolarmente residenti nel nostro territorio contemporaneamente è aumentata anche la presenza degli immigrati nel mercato del lavoro portando la forza lavoro straniera da 1,9 milioni nel 2008 a 2,4 milioni nel 2010 sono quindi cittadini stranieri più del 9% degli occupati nel nostro paese è facile osservare che l'afflusso di cittadini stranieri dall'estero rappresenta una risorsa per l'Italia considerando ad esempio i mutamenti demografici avvenuti negli ultimi decenni l'estensione del sistema sanitario nazionale i grandi successi della medicina e la crescita del tenore di vita degli italiani ci portano a vivere più a lungo spesso in condizioni di maggior salute ma ancora più importante è il calo della natalità tra il 1981 e il 2001 la popolazione in Italia non è più cresciuta nel 1995 il numero medio di figli per donne pari a 1,19 aveva raggiunto il valore minimo nella storia dell'umanità per una popolazione di grandi dimensioni quindi negli ultimi decenni la popolazione italiana è andata invecchiando per due processi paralleli da un lato gli anziani vivono sempre più a lungo dall'altro lato ci sono sempre meno giovani che negli altri paesi occidentali contribuiscono ad abbassare l'età media quindi senza l'immigrazione entreremmo presso in un circolo vizioso di ridotta o scarsa popolazione formata principalmente da anziani che ovviamente fanno molti meno figli dei giovani anche considerando le dinamiche economiche il contributo degli immigrati stranieri all'economia italiana è notevole anzitutto la cresciuta scolarizzazione della popolazione italiana e poi l'avvento dell'università di massa hanno molto innalzato il livello di istruzione dei giovani rispetto ai loro padri e ancor di più ai loro nonni cresce così anche il grado di specializzazione e la qualità delle loro occupazioni sebbene sono in media non per tutti per questo gli economisti usano il termine complementare riguardo alla forza lavoro immigrata per indicare il fatto che molto spesso i lavoratori di origine straniera svolgono mansioni non più desiderate dagli italiani basta esaminare ad esempio la forte concentrazione di lavoratori immigrati in determinate attività come i settori di servizi domestici di cura delle pulizie della ristorazione dei servizi alberghieri dell'edilizia inoltre i contributi previdenziali versati da lavoratori stranieri e da loro datori di lavoro sono passati da circa 2,5 miliardi di euro all'inizio del decennio a circa 6,5 miliardi l'anno circa il 4% del totale diviene sempre maggiore quindi il contributo dei lavoratori stranieri al finanziamento delle pensioni e delle prestazioni sociali inoltre l'immigrazione aumenta anche la domanda per i beni e servizi prodotti dalle imprese sostenendo i consumi e quindi gli investimenti ci sono alcune indicazioni che la crisi in corso stia portando gli italiani ad accettare sempre più anche occupazioni che in precedenza lasciavano ad altri ma in generale sembra ancora vero che gli immigrati non rubano per così dire il lavoro agli italiani quel che è certo è che periodi di crisi e tensione sociale si associano spesso a una crescita di fenomeni di razzismo e intolleranza il riferimento non è solo agli anni 30 ma anche molto più vicino a noi come ad esempio le forti tensioni che si vanno accumulando in alcuni settori della società greca per questo è importante tenere alta la guardia e prevenire l'identificazione di facili capri espiatori cerchiamo allora di capire insieme nel mondo di domani un mondo di paesi il più possibile numerosi via via sempre più sviluppati via via sempre più in grado di produrre loro stessi quello che serve e magari di produrlo a costi che permette a loro anche di esportare paesi abitati da un numero di persone nell'insieme superiori a quelli che abiteranno i paesi europei noi noi che eravamo siamo stati continuiamo a considerarci la culla di tantissime cose che hanno reso grande l'umanità cose che attengono alla ricerca e all'invenzione delle tecnologie delle scienze delle istituzioni democratiche della letteratura della civiltà nel suo insieme e che abbiamo diffuso nel mondo i nostri saperi a volte anche con strumenti assai imperiosi e assai poco commendevoli in ogni caso noi che siamo stati il centro di un mondo eurocentrico di un mondo che veniva visto e vissuto proprio come tributario dell'Europa noi rischiamo di diventare una realtà marginale periferica in questo mondo allargato dove non ci sarà più bisogno di noi e dove magari saremo noi ad aver bisogno degli altri sarà così è possibile come sempre che sia così ma non dimentichiamo una cosa che in un mondo in cui tutti producono tutto e tendenzialmente ciascuno può replicare ciò che ha visto fatto da ciascun altro e se lo sa far meglio lo venderà per il futuro al posto di quest'altro beh ci sono e rimangono alcune specificità che è difficile replicare da parte di chi non le ha dentro nell'insieme la nostra culla europea si è venuta riempiendo di strati di conoscenza di istituzioni che la perseguono di esperienza abituata a gestire la conoscenza che per lungo tempo ci darà comunque un vantaggio rispetto a quelli che le nostre stesse conoscenze le nostre stesse tecnologie le stanno appena imparando ce lo spiegano gli economisti e non solo gli economisti che la produzione di futuro e quindi la produzione di sviluppo è anche frutto di accumulo un accumulo che si è venuto formando nella storia e che facilita la produzione di quello che ancora non c'è ecco noi abbiamo questo vantaggio e noi per lungo tempo lo potremo utilizzare non so quanto durerà questo tempo ma durerà quanto basta ad aiutarci ad arrivare alle fasi successive della storia che sono tutte segnate dal tema di cui prima parlavo l'arrivo di altri che portano con sé le loro culture le loro abitudini le loro tradizioni le loro aspettative e che arrivando in Europa entrano in una stupenda macchina che trita le diversità e che produce qualcosa di nuovo l'Europa è sempre stata questa ci sono alcuni grandi storici che hanno scritto il giorno che l'Europa perderà la capacità di mettere insieme le diversità che arrivano da lei producendo qualcosa di nuovo quel giorno l'Europa declinerà e il mondo stesso finirà per declinare ecco qui davvero dipenderà da noi saper mantenere la capacità di non difenderci dalle diversità che arrivano di mantenere la curiosità di averle con noi di accoglierne la novità di farli lavorare qui da noi assimilando parte del nostro unendolo a parte del loro e producendo ciò che non c'era lo sviluppo è figlio di questa capacità di produrre per il futuro ciò che prima non c'era altrimenti saremmo ancora a lottare tra la ruota quadrata e la ruota tonda se il mondo ha fatto tanti passi avanti ha prodotto nei secoli tante cose diverse perché c'è stata questa capacità di accumulare novità che è stata tanto più facile quanto si era in famiglie aperte all'ingresso di sangui diversi l'abbiamo studiato nella nostra storia che le famiglie nobili che per mantenersi facevano sposare le figlie con i cugini al massimo a volte addirittura con i fratelli per evitare chissà quale guaio con l'arrivo di terzi estranei finivano così per indebolire il loro sangue il sangue rimane forte vivo se è alimentato da diversità la caratteristica dell'Europa è stata sempre questa manteniamola ed è ben possibile che una volta che avremo esaurito il vantaggio che oggi abbiamo altri momenti di successo ci possano essere anche per il futuro l'immigrazione non è un problema per l'economia al contrario può essere una grande opportunità per l'economia un'economia moderna e dinamica ha bisogno di una società moderna e dinamica alle sue spalle e questo è possibile soltanto se si stimola l'innovazione l'innovazione ha bisogno del contributo creativo dei singoli individui e gli individui possono dare un contributo creativo alla società se e solo se sono accettati dalla società riescono a integrarsi senza essere discriminati per ragioni etniche o di orientamento sessuale o di genere una società che discrimini le donne perde il contributo creativo delle donne e quindi l'apporto che le donne possono dare al funzionamento dell'economia e alla crescita economica una società che discrimini contro gli omosessuali perde il contributo creativo degli omosessuali una società che discrimini contro gli immigrati perde il contributo che questi possono dare alla crescita e noi questo non ce lo possiamo permettere la mancanza di coesione sociale provoca comportamenti non cooperativi da parte degli individui che tendono a perseguire o i loro propri particolari interessi oppure quelli dei gruppi anche particolarmente ristretti come per esempio la famiglia cui appartengono questo comporta la diffusione di comportamenti di free riding nel senso che le persone tendono ad ingannarsi le une con le altre ogni volta che ne hanno l'occasione e ad avere scarso rispetto per la cosa pubblica se invece c'è maggiore coesione sociale le persone limitano i comportamenti non cooperativi e questo favorisce la diffusione della fiducia gli studi empirici degli economisti provano ampiamente che la diffusione della fiducia è uno dei motori sia del buon andamento dell'economia nel breve periodo sia della crescita economica nel lungo periodo e più in generale dei processi di sviluppo economico e sociale se le persone si fidano di più le une delle altre meno facilmente tenderanno ad ingannarsi tra di loro ogni volta che devono effettuare una transazione che devono avere a che fare per motivi commerciali per esempio e questo costituirà uno stimolo all'attività economica che nel lungo periodo è provato dagli studi empirici tende ad alimentare la crescita gli studi empirici mostrano che gli individui discriminati tendono a fidarsi molto meno degli altri a non avere atteggiamenti cooperativi nei confronti delle persone che non conoscono e questo li porta a limitare il proprio contributo alle transazioni alle attività economiche e quindi nel lungo periodo anche alla crescita economica quello che vale per l'Europa vale ovviamente e direi a maggior ragione per l'Italia si parla di creatività italiana gli italiani sono creativi come nessun altro può darsi che sia una nostra dote di natura perché no questo non lo dobbiamo escludere ma se è una dote di natura noi l'abbiamo potuta esercitare esattamente per le ragioni delle quali parlavo prima riferendomi all'Europa perché l'Italia è sempre stata come si suol dire un porto di mare è entrata un sacco di gente si è insediata qui ha portato parte delle sue tradizioni artigianali culturali artistiche le ha combinate con le nostre e ha fatto uscire sempre qualcosa di nuovo noi avevamo il romanico arrivano i settentrionali portano il gotico il gotico e il romanico si mettono insieme e arrivano i brunelleschi che fanno delle straordinarie cupole con uno stile che prima non c'era che è frutto di questa fusione di stili diversi che si ritrovano questo è il punto non soltanto nell'arte italiana che è comunque una nostra grande risorsa per secoli gli esseri umani da ogni parte del mondo verranno a vedere l'Italia dove l'Italia è e noi abbiamo la responsabilità di conservare e manutenere questa Italia bella perché continua ad essere bella e fruibile dai tanti dai milioni che la vogliono vedere ma noi possiamo fare di più questa bellezza italiana la possiamo andare a vendere fuori oltre che a venire a farla vedere in Italia perché è non solo negli abiti della nostra grande moda ma è nei prodotti italiani i prodotti italiani siano essi artigianali siano essi industriali hanno qualità tecniche e qualità anche di bellezza che li rendono unici e li rendono apprezzati in tutto il mondo la prima volta che andai in Cina vidi un operatore cinese della seta che mi disse vorrei un partner italiano noi ci mettiamo la seta voi ci mettete il design è così il design italiano è in tutte le produzioni e lo è perché noi abbiamo sempre accettato di far venire altri da noi e abbiamo creato sempre stili nuovi fondendo stili diversi ecco perché nell'Italia di domani noi dobbiamo essere aperti ai vecchi e ai nuovi italiani ed è a loro e ai loro figli e ai loro nipoti che saranno cittadini dell'Italia di domani che chiudo facendo loro gli auguri di un bellissimo futuro di un'altra di un'altra di un'altra Grazie.